che mette il pallone nelle mani di Spissu alla fine Milan, eccolo in post basso, ecco la testa alta la palla fuori, Evans ci pensa, poi prende l'arresto e tiro più comodo, un passo dentro la linea dei tre punti scarico, c'è Vitali che va in palleggio davanti a lui Pier, alla fine il triangolo arriva grande palla di David Moss molto più in là in primavera, in oltrata tanto ancora il triangolo, ancora Warner e invece dall'altra parte ultimi secondi dei 24 però buon tiro costruito, rete brava da Bass, Bass anche a non tirare ma a partire qui Warner parte scarica, extra pass di Sacchetti e tripla di Avudu a Bass 18 secondi per tirare, anzi alla fine del secondo quarto ma solo 8 per tirare adesso e arriva il canestro da due punti il corso anche di o troviamo qualcosa subito oppure facciamo lavorare la difesa a lungo e così è accaduto, questa però è una super uscita di Mitch Vitali e siamo quasi a 4 minuti di giocati a Bass per Lansdown la tripla sul primo ferro rimbalzone di Bilan e grande apertura assist di Spissu segna Vitali 11 a 0 piccile corto rimbalzo di Evans che peraltro anche da quel punto di vista sta cercando una buona partita dentro valla per Bilan contro Kane con tre falli che tiro è questo? alla Vlade d'Iva più 14 massimo vantaggio per il banco e 22 a 0 di parziale aperto David Moss al resto canestro alla fine per rompere l'impasse Bresciano meno 12 Warner le finte la grande palla che arriva per Zerini meno 10 Tyrell Kane che adesso consegna nelle mani di Lansdown l'uscita di Abbas che fa passare la palla molto bene per Tyler Kane ma la tripla di Abbas non entra rimbalzone di Pierre che continua a dedicarsi ad altro piuttosto che al fatturato nella verità solo secondo rimbalzo beh sparatoria che continua può giocare con Kane vediamo l'iniziativa lo scarico ed eccolo Mosta 3 fondamentale qui intanto salva Sacchetti ma alla fine la palla è del Banco Sardegna arriva l'assist di Gerens Pilar super vince il Banco di Sardegna 76 a 70 sulla Germani